Perfetto. Allora, questo talk è un percorso, è una sorta di psicoanalisi che ho fatto in un paio d'anni, in cui mi faccio le domande e cerco di darmi delle risposte e vorrei accompagnarvi attraverso questo percorso con me. L'idea appunto era di partire dall'inizio, quando ho iniziato a scrivere ho detto parto parlando di architetture modulari, poi però in realtà andando avanti ho realizzato che volevo parlare di componenti e di classi, quello che usiamo con CSS, ma il problema in realtà non era nemmeno quello, quindi sono andato avanti e ho pensato, in realtà quello di cui voglio, l'attenzione, voglio focalizzarlo, che bravo che mi vengono i termini italiani, voglio focalizzarlo sui componenti e sui modificatori dei componenti. O meglio, voglio focalizzarlo sui componenti e modificatori dei componenti e quando dobbiamo fare degli override, grazie, sovrascritture degli stili, perché a volte capita, no? E poi sono arrivato appunto a componenti pattern e altre robette non semplicissime da gestire. Io pattern non so come dirlo in italiano, è un'altra parola che non mi viene. va benissimo, ok, grazie. Quindi, niente, io sono Marco, Chad Max ovunque sull'internet, sono un tech leader con The Nast International, se non lo conoscete è l'editore di Vogue. Come potete vedere sono molto fashionable e ho anche fatto qualche anno a Ux in passato, quindi ce l'ho nel sangue, la moda. Se dopo volete parlare di moda con me, evitate. Comunque, componenti pattern e altre robette non semplicissime da gestire, il titolo del talk o di come sono riuscito a dare un senso a Lost in Translation. Chi è che ha visto il film Lost in Translation? A chi è piaciuto il film Lost in Translation? Dopo me lo spiegate. Per chi non lo conoscesse, Lost in Translation è un film in cui i due protagonisti sono due persone abbastanza diverse. Bill Murray è un attore di mezza età e lei si chiama? Scarlett Johnson è la ragazza di un fotografo, giovane, sui 20 something. Si ritrovano in Giappone, completamente distrutti dal jet lag e si crea questo rapporto non romantico in cui vanno attraverso una specie, lui in una crisi di mezza età, lei diventare adulta e cercare di capire cosa fare della sua vita, più o meno, adesso poi senza entrare troppo nel dettaglio. E diciamo che le reazioni del film sono svariate, a varie persone è piaciuto, altre invece hanno avuto la mia stessa sensazione. Riuscite a leggere l'inglese tranquillo, questo non l'ho tradotto perché, essendo un quote, mi sembrava sano che fosse così lo tradurrò io. Questo film è un'ora e qualche minuto della mia vita che non arriverò mai indietro. In realtà, a parte la battuta sulla Lost in Translation, in realtà il titolo del talk, o meglio, il riferimento della Lost in Translation nasce da un talk di Allah Kolmatova, che è una speaker fantastica, che parla di pattern library e di design pattern nel mondo del design, specificamente, che sostiene che il significato è complesso e viene perso nelle traduzioni, nel passaggio, perché ciascuno di noi ha il modello mentale diverso delle cose, fondamentalmente. Come dicevo, lei parlava principalmente di design, però è una cosa che si applica anche a noi quando scriveva un codice. E per capire di cosa parliamo, vorrei fare un passo indietro e parlare un po' di storia. Tra il 2013 e il 2015 ho avuto il piacere di lavorare a Shazam. Shazam ha anche delle cose web, sì, non è solamente mobile app. Questo era il mio team. Anche il cane, sì, anche il cane. Il nostro stack non era particolarmente avanzato, non avevamo niente di Reacti o cose del genere. Si può dire React on CSS Day? Sì, spero di sì. Usavamo Mustache, usavamo un piccolo framework in JavaScript che avevamo scritto noi, niente di stravagante, e usavamo SAS con cui voi sarete sicuramente familiari. Molta dell'attenzione del nostro lavoro era focalizzata attorno a un articolo che uscì nel 2013 scritto da Brad Frost riguardo l'atomic design. Chi ha il corrente di questo articolo, chi l'ho letto o sa almeno di cosa si intende per atomic design? Perfetto. Allora, Brad Frost teorizzava il fatto che le pagine si potessero scomporre e di organizzare i componenti di design delle pagine in template, organismi, molecole e atomi. E stiamo già parlando di componentizzazione, di fatto. Probabilmente avrete un approccio simile nel vostro sviluppo. Create la struttura più piccola e poi la riutilizzate per comporre strutture più complesse. E questa è stata la prima grande rivoluzione che ha portato, in un certo qual modo, a pensare e a ragionare in termini di pattern e componenti. Però prima ancora, nel 2011, sono stati annunciati i web component e l'appetito della comunità per questo tipo di struttura portabile è stato risvegliato incredibilmente. Otto anni dopo possiamo dire che i web component hanno un attimino undelivered perché li usano in tre, credo, e sono tutti a Google. Però ci stanno arrivando, ci stanno arrivando otto anni dopo. Ma noi, appunto, è dal 2011 che sentiamo parlare di componenti e di web modulare e cerchiamo di gestire il nostro codice in modo che sia il più piccolo possibile, il più portabile possibile, stabile in isolamento. Però andiamo ancora più indietro. Perché Anna Debenham, un'altra speaker fabolosa che parla di pattern library e design library, dice che lei, questo era, credo fosse, 2014, quando ho fatto questo talk, dice che lei aveva sentito parlare di pattern libraries dal 2009 su progetti web, quando Natalie Dawn lo faceva a Clear Left. Quindi, sono ormai dieci anni che parliamo di pattern library e di component. di componenti, scusate, da un certo punto di vista. A questo punto, però, proprio perché il significato è una cosa complessa e rischia di essere perso nella traduzione, vorrei spendere un secondo a parlare di cosa intendo per pattern library. Allora, si potrebbe fare un talk sulle pattern library, quindi, siccome il tempo è quel che è, ho deciso di saltare. Quello che intendo con pattern library è un dizionario visivo degli elementi grafici che compongono le vostre web app, i vostri siti. Semplifichiamolo, teniamolo il più semplice possibile. Chi è che usa una pattern library o ha un design modulare che... non tantissimi. Ok, avrei detto di più. Però sapete di cosa parlo, no? Ne avete sentito parlare, se non altro? Alzare la mano? Grazie. Quindi, niente, dal 2009 si sente parlare nel web di pattern library. Come dicevo, pattern library è un catalogo di componenti o di elementi di design che vanno a comporre i vostri siti. Quello che, secondo me, personalmente, ha dato una grande spinta al mondo delle pattern library e... Correggetemi se sbaglio, è veramente soggettiva come momento di tipping point. Dura? Va bene, tipping point. React. React è stato il momento in cui è stato più semplice per tutti, scrivere componenti, perché React si basa su componenti. Chi è familiare con React? Chi è che conosce React? Ok. React è stato il momento in cui gli sviluppatori si sono trovati ad avere a che fare con dei componenti come... First class citizen. Ma arriviamo ai giorni nostri. Arriviamo ai giorni nostri. Perché sto facendo questo talk? Questa è un po' una domanda che ci stiamo facendo tutti in questo momento. è che non è semplice. Lavorare per componenti non è semplice. Quando si cerca di applicare un approccio modulare al lavoro di tutti i giorni, non è così automatico, non è così semplice. E il problema è che ci troviamo varie volte a sentirci come questo bimbo che cerca di martellare un quadrato in un cerchio. Perché? Perché magari ci troviamo a fare delle eccezioni nel nostro codice, ci troviamo a fare delle sovrascritture, ci troviamo a fare condizionali per cercare di applicare dei pattern che non sono quelli che abbiamo scritto la prima volta, che non sono quelli che ci aspettavamo. Quindi come organizziamo il nostro codice per permetterci il riutilizzo di pattern senza che siano troppo rigidi per il lavoro di tutti i giorni? Questa era la domanda che mi risuonava in testa. Poi però, pensando e ragionando, in realtà il problema è un altro. Come facciamo a riutilizzare i nostri pattern quando l'use case è un po' diverso? Perché noi abbiamo questa bella libreria codificata e per ragioni di marketing, di designer, creatività, ricerca di UX, ci troviamo a dover fare qualcosa di leggermente diverso. Però il nostro pattern è molto simile. Come facciamo nel codice a risolvere questo problema? Senza creare una cascata di if o dover duplicare il codice ovunque. Non è un problema semplice. Non è un problema semplice. È giusto per chiarire. Ho degli esempi in React, ho degli esempi in SaaS. non è un talk che parla di uno stack specifico, è un talk che parla di modularità e di responsabilità dei moduli e di come viene gestita questa cosa nel codice. Allora, nel tempo, una delle cose che ho visto fare molto spesso e che mi mette i brividi è iniettare le classi. Quindi abbiamo un componente, un icon button, e JSX non ha JavaScript. Just saying. E viene iniettata una classe. Questa classe va a sovrascrivere degli stili del bottone. No? Quindi abbiamo il nostro SaaS dove all'interno di content action il bottone riceve degli stili diversi. Fin qui tutto ok. A me questa cosa mette un po' panico dal punto di vista dello sviluppo perché la manutenibilità di questa cosa dal mio punto di vista è vero. Principalmente perché questo codice non so cosa fa rispetto a quello che è nel componente base, il bottone originale. Come interagisce questo codice col bottone originale? Se io faccio refactoring del bottone originale questo crea collisioni, crea problemi o no? Quando me ne accorgerò visto che questo è solo in una sezione specifica del sito e tutti gli altri bottoni sono ovunque. E anche, soprattutto, perché questo bottone non è codificato nella pattern library? Perché è una cosa diversa. Se è un dizionario visivo dovrebbe essere un dizionario visivo dal mio punto di vista. Quindi è un metodo che ha sicuramente un sacco di flessibilità perché permette di gestire qualunque tipo di eccezione ma anche due grandi no dal mio punto di vista che sono che appunto il componente originale il bottone base può venire sovrascritto in modi inaspettati e il rischio appunto è di non accorgersi di problemi fino a che per caso qualcuno apre quella pagina e creiamo un numero indefinito di varianti di pattern. Non abbiamo più una source of truth del nostro design. Quindi per me questo è un grande no. Qualcuno di voi ha mai utilizzato questa tecnica per fare questo tipo di sovrascritture? Sì? Ok. Ripensateci, per favore. Non dico domani però valutate se è la soluzione migliore in termini di scalabilità e di modularità. Altre cose che ho visto e che ho fatto scusate tutto il codice che vedete è il codice che è in produzione su cose su cui ho lavorato anch'io. Quindi non è che adesso vengo qui e faccio il fenomeno e vi dico come dovete fare le cose. Sono cose che ho fatto in passato e mi sono accorto che sì funzionano ma potrebbero avere dei limiti e sto cercando di presentarveli a parte del percorso di terapia di gruppo, credo. con modificatori ad hoc con modificatori ad hoc intendo dire che BAM-like modificatori tipo questo sono molto specifici su un utilizzo. Questa dialogue user intent è una dialogue nel sito non è un tipo di dialogue di conseguenza va bene dal punto di vista semantico perfetto abbiamo il codice che è vicino al codice della dialogue quindi so come questo codice interagisce col componente base però nel momento in cui apro la porta a questo tipo di tecnica rischio di trovarmi a fare una quantità di sovrascritture una quantità di casi specifici e questo può portare a un aumento delle dimensioni del CSS più o meno indefinito anche perché vabbè adesso guardate la dialogue però quanti component posso avere che hanno varianti specifiche quanti bottoni ha il vostro sito che magari hanno un colore leggermente diverso quindi è una pratica che offre una descritta flessibilità da quel punto di vista perfetta offre controllo permette di mantenere i codici collocati che non è male e però appunto ci sono implementazioni specifiche e si possono aggiungere eccezioni solamente fino a un certo punto quindi una buona via di mezzo se avete pochi casi specifici o un progetto relativamente piccolo nel momento in cui vi trovate a dover scalare potrebbe essere un problema l'ultimo caso sono i pattern specializzati quello che sono veramente modificatori come BAM come concepiti da BAM in questo caso abbiamo un dialog prompt l'esempio può sembrare molto simile a quello precedente ma la differenza è il valore semantico dell'eccezione in questo caso abbiamo come prima un'eccezione specifica ma questo pattern prompt è un tipo specializzato di dialog può essere utilizzato tutte le volte che ha un prompt non è un caso specifico quindi i pattern sono al centro della conversazione riportiamo le eccezioni le normalizziamo le codifichiamo nella pattern library e fanno parte del nostro dizionario visivo che è ottimo l'unica contraindicazione che vedo penso è che al di là del fatto che la flessibilità è inferiore c'è il rischio di iniziare a fare estrazione molto presto c'è il rischio di iniziare a creare pattern che in realtà non sono pattern solo perché quella volta dovete aumentare un pochino i margini per esempio quindi sì ha senso tra l'altro viene anche molto bene con React per esempio perché si può invece di iniettare la classe come abbiamo visto nel primo esempio si possono creare dei componenti specializzati adesso ripeto l'esempio in React potrebbe andare con qualsiasi altro tipo di linguaggio comunque si possono creare dei tipi specifici di eccezioni quindi per fare il recap di questa prima sezione del talk queste tre tecniche che appunto ho utilizzato e ho visto più o meno funzionare tutte hanno pro e contro probabilmente l'ultima è quella che dal punto di vista estrettamente del codice mi sento di consigliare ovviamente ha dei limiti ha dei grossi limiti e a questo punto nel talk dopo aver fatto questi tre esempi ho pensato facciano showcase di tutti i casi che mi vengono in mente bla 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 mi sono accorto che in realtà non stavo andando da nessuna parte un po' come i protagonisti di Lost in Translation ero bloccato e il punto è che appunto non è così semplice non è affatto semplice quindi sono tornato al problema sono tornato indietro ho fatto un passaggio indietro mi sono chiesto ma è veramente questa la domanda a cui voglio a cui voglio rispondere cos'è che sto cercando di risolvere e la domanda è proprio invece cosa sto cercando di risolvere quindi ho cercato di tornare indietro e di rispondere a perché faccio queste eccezioni e mi sono accorto che ci sono una serie di use case predefiniti per cui andiamo a fare delle eccezioni nel codice una dei quali è il posizionamento di un component all'interno del component genitore nel caso specifico una tecnica che si potrebbe utilizzare per risolvere specificamente questo problema senza stare a fare eccezioni cose del genere è vrappare 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 il componente in un contenitore e dare la responsabilità al contenitore di gestire l'eccezione quindi il componente non viene modificato affatto è il contenitore che non deve essere necessariamente codificato nella pattern library che si occupa di gestire gli spazi di conseguenza ho la mia dialog che è si adatta al contenitore e ho il contenitore che specifica le dimensioni massime per donare l'esempio di prima ogni componente ha le sue responsabilità quindi non ho codice che va a interferire per favore non usate discendenti diretti cioè non fate game intent punto dialog sovrascrivendo ma teneteli ben separati e questa pratica definisce in modo chiaro le responsabilità e non si vanno a invalidare i pattern quello che succede in realtà è semplicemente che invece di iniettare la classe tornando all'esempio iniziale la classe si sposta a un livello sopra quello che ovviamente non funziona è che si crea quello che viene chiamato diabetes ovvero una quantità di div che esplodono nel vostro sito e vi trovate con 200.000 nodi inutili dal punto di vista semantico che potrebbe non essere una cosa fantastica un'altra cosa che cerchiamo di risolvere è il posizionamento tra componenti in questo caso una soluzione potrebbe essere utilizzare e questo è controverso utilizzare delle classi specifiche per gestire gli spazi non piace a tutti lo capisco però ha un grande vantaggio che sposta la conversazione sui rapporti tra i componenti nella pattern library potete codificare gli spazi potete codificare i margini potete codificare i padding e avere una situazione in cui la vostra pattern library definisce i rapporti tra i componenti ripeto dal punto di vista semantico avere una classe che si chiama space max lo capisco capisco sono con voi però ha un grande vantaggio da quel punto di vista le classi posizionali hanno dei limiti ovviamente c'è solo un certo numero di spazi che puoi definire non sono semantiche e soprattutto se non vengono codificate appropriatamente diventano obsolete molto in fretta si inizia ad aggiungerne a caso solamente perché si vogliono questo design un po' diverso ho ricevuto il PSD e non è nessuno di quelli che abbiamo quindi ne aggiungo uno è successo mille volte una soluzione che invece ho visto funzionare molto bene e mi sento di consigliare è avere dei componenti open suona meglio in inglese scusate componenti open per componenti open intendo dire che invece di definire con sovrascritture cose questa icona invece di sovrascriverla in questo modo posso creare un mixin e dire che questa icona all'interno del question content block ha quel size ok siete con me? il vantaggio di questa di questa operazione è che la responsabilità di essere flessibile rimane sull'icona quindi non è una sovrascrittura è l'esposizione di un API con cui l'icona decide di essere flessibile se lo volete guardare in un mondo react più o meno una roba così decidete voi l'interfaccia che questo componente ha e che offre all'esterno quindi ogni componente può essere flessibile in modo controllato lo sviluppatore o il designer decidono quali sono le cose sovrascrivibili nel componente o le cose flessibili nel componente e si ha sempre il controllo del pattern non si vanno a sovrascrivere cose che non è previsto vengano sovrascritte è una tecnica chiaramente più complessa delle altre da gestire nel codice iniziare ad aggiungere parametri e ad aprire flessibilità è una brutta china nel momento in cui si comincia si potrebbe decidere che tutto è flessibile e non è il massimo e l'ultima cosa da considerare è che dal punto di vista del design e della pattern library che deve essere un dizionario appunto delle cose disponibili per costruire il sito un componente flessibile potrebbe non avere senso è una scelta molto specifica avere dei componenti che permettono questo tipo di flessibilità perché di fatto anche se non si può sovrascrivere tutto come succede per il class name comunque ci sono c'è un margine di flessibilità che non è detto che possa essere codificato completamente e a questo punto dopo aver analizzato quello che cercavo di risolvere e aver dato un senso guardandolo dall'altra parte mi sono chiesto se migliora e volevo farvi sentire una clip audio sperando che funzioni dal film does it get easier no yes it gets easier oh yeah look at you thanks Più sai quello che sei e cosa vuoi, meno lasci che le cose ti tienino fastidio. E secondo me, in questo processo di autopsicanalisi, il problema è proprio quello, il problema è che io non so cosa sto costruendo, è per quello che mi ritrovo a fare tutte queste eccezioni e a tornare indietro sul mio codice, a rilavorarlo, eccetera. Ed è realmente un problema, veramente è una perdita del significato durante una traduzione, perché costruire un linguaggio comune è il primo step per abbattere le barriere culturali. E quindi quando dicevo che questo era il problema che cercavo di risolvere, in realtà stavo completamente sbagliando il bersaglio, non era questo che dovevo cercare di capire. Dovevo cercare di capire come capire ed esprimere il significato di un'eccezione nei pattern. Perché è un'eccezione, cosa sto cercando di costruire. E analizzare insieme alle persone con cui sto lavorando quello che sto costruendo. Non ricevere un PSD e farlo, realizzarlo, codificarlo. Quindi, ripeto, per me la soluzione è trovare un modo per capire quello che sto costruendo. Farmi coinvolgere presto. Lavorare con i designer, lavorare con le persone che fanno UX, lavorare con demo cap prima di avere il PSD definito. E, sì, parlare con le persone. Che in un mondo CSS magari è più semplice, però quando si arriva dall'angolo degli sviluppatori a volte è complesso, a volte si pensa che il proprio lavoro sia scrivere codice. Spoiler alert, non è vero. E soprattutto ricordandosi che quando facciamo questo lavoro non siamo mai senza speranza. Grazie. 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 Grazie.